Grazie perché avete trasformato le nostre più profonde paure in forza e energia, fuori dai palazzi, in mezzo alla gente che resiste, si sta molto meglio, si respira forza di volontà, spirito di iniziativa, si celebra la vita, nonostante tutto quello che qui dentro si decide. Siamo sani, siamo vivi, siamo integri, coerenti e quindi non ricattabili. E questo vi fa paura. Ora, a proposito, io mi sono portata a un kit di sopravvivenza. Vi consiglio di starmi molto lontana perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto. Grazie.